Temptation Island VIP 2 torna in tv con la puntata di riepilogo e trasloca dal lunedì, ecco la data ufficiale in cui scopriremo che piega hanno preso tutte le storie del reality Come stanno le coppie che hanno partecipato a Temptation Island VIP 2? Presto lo scopriremo Il reality tornerà in tv con una puntata riepilogativa. La data ufficiale da segnarsi sul calendario è il 31 ottobre 2019 Dunque lo show, per l'appuntamento finalissimo della seconda edizione, trasloca dal lunedì al giovedì Anche perché lunedì 28 sarà occupato da Live non è la D'Urso, altro programma Mediaset protagonista di Trasloco Il talk condotto da Barbara D'Urso, infatti, dalla prossima settimana andrà in onda non più la domenica ma in prima serata nel primo giorno della settimana Le coppie scoppiate a Temptation.La seconda stagione di Temptation Island VIP ha riservato parecchi colpi di scena ed ha causato anche il naufragio rumoroso di due coppie Quella formata da Pago e Serena e quella formata da Natali Caldonazzo e Andrea Ippoliti I primi si sono detti addio inaspettatamente, visto che a inizio reality erano dati come una tra le coppie più solide partecipanti Il programma ha invece fatto emergere crepe profonde nel rapporto L'extronista ha così preso la difficile e dolorosa decisione di uscire da sola dallo show, spezzando il cuore del musicista Ben diversa e ancor più spinosa la situazione tra la Caldonazzo e Ippoliti La showgirl, nella trasmissione, ha piantato in tronco Andrea senza troppi fronzoli Lui pare che a telecamere spente abbia proseguito la frequentazione con la tentatrice Zoe Temptation Island VIP 2, la spinosa situazione tra Natali, Andrea e l'ex moglie di quest'ultimo Per quanto riguarda la situazione tra Natali e Andrea, la storia si è alimentata anche di un protagonista esterno, Daniela, l'ex moglie di Ippoliti La donna ha tuonato pesantemente e ha più riprese contro l'ex marito durante il reality e nei giorni successivi alla fine dello show Descrivendolo come un padre assente e un uomo incline al tradimento La situazione si è fatta via via più pesante Chissà come si risolverà I 31 ottobre si avranno molte risposte, l'appuntamento è con Temptation Island VIP 2 e il viaggio, in prima serata su Canale 5 La situazione si è fatta via via più pesante